Buon compleanno, figliù! Buon compleanno, caro! Ora apri! Cosa sarà? Ehi, ci siete voi? Buon appetito! Cosa? Un bambino? Ma siete pazzi? Non è il tuo preferito! No, lasciate in pace il bambino! Sarà il mio nuovo fratellino! Sono tutto il cielo! A proposito, io sono vegano! Cosa? Questi adolescenti di oggi! Non preoccuparti, un giorno crescerà! Su, non avere paura! Questa sarà la tua nuova casa! Sul serio? Impossibile! No, perché? Oh, ho capito! Dammi un secondo e te l'assistemo! Ciao, cucciolo! E' bravi alzarsi! Dai benvenuto al nuovo membro della nostra famiglia! Famiglia! Accepicchio! Non avere paura, gentile! Guarda! Chi è bravo? Chi è? Vuoi l'osso? Non vuoi? Prendilo adesso! È mio! È mio! È mio! L'ha preso! Bravo! Ma dove eravamo? Oh, sì! La tua nuova casa! Ma prima devo darle una bella ripunita! Anche dentro! Che schifo! Che puzza! Avrei dovuto pulirla almeno ogni cento anni! Eh, no, no! Non credo sia lui il lupo lo adora! Che esaltro? Anche questo? Via! Mmh! Non male, non male! In realtà mi piace! Tutto fatto! Ora entra! Eh? Dovrei vivere qui? Ah, mi mette paura! Ma anche no! Eh? Oddio! È così carino quando dormi! Eh? 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 Ah! Sogno d'oro! Dormi, piccolino! Ora cosa dovrei fare? Non mi piace il bianco! Cambiamolo! Non credo ci vorrà molto tempo! Eh? Cosa? Fermati! Fermati! Ah! Stupido spray! Wow! Non ci posso credere! È fantastico! Liscio e nero come la notte! Mmh! E adesso? Oh! Lo so! Userò questo tessuto qui! Ottimo! E ora voglio... Cavolo! Non ci riesco! Ho bisogno di qualcosa di affinato! Giusto! Ottima idea! Sono anni che non lo uso più! È come nuovo! Facciamolo! Forza! Sì! Ci sto riuscendo! Fatto! Adesso ho realizzato anche un'apertura! Grazie pugnale! Ma aspetta! Sì! Qualche pugnale ci starebbe proprio bene qui! Fantastico! Perché non c'ho mai un pizzetto prima? Ehi, ehi, ehi! Fai piano! Questo posto è così figo! Dai! Prendimi! No, no, no! Fermati! Vai! Accidenti! Te l'ho detto! Aiuto! Mi sono bloccato! Eccomi! Meglio! E ora facciamo delle decorazioni! Io amo i pipistrelli! Sono figli, eh! Solo che... Oh! Oh! No! So cosa fare! Venite! Venite da me, piccoli! Wow! Che meraviglia! Ottimo lavoro! E voi? Voi qui starete benissimo! Proprio sopra l'entrata! Fantastico! Sì, mi piace! E sono sicuro che piacerà anche a lui! Ma manca ancora qualcosa! Oh! Giusto! Questo è ciò di cui ho bisogno! Magnifica! E come brilla! Sì, mia cara! Tu sarai la vera protagonista qui! Eccoti! Oh! Non è adorabile! Eh! Cosa? Mi annoio! Ecco! Andiamo fuori a giocare! Vieni! Andiamo! Non allontanatevi, ragazzi! E io ne ho tempo! Eh? Perché è così buio? No! Non ci siamo! Ai! La mia testa! No! È troppo pericoloso per un bambino! Devo fare qualcosa! Ups! Oh! Ho un'idea! La casa ha bisogno di una finestra! E io la creerò! Si deve abbinare al resto della casa, ovviamente! La forma è pronta! Ora devo solo colorarla! Che bel colore! Fantastico! Ora devo solo inserire uno sfondo! E io ho scelto questo! E' fatto! Ora devo solo posizionarla! Sì! Sta proprio bene qui! Apriamola! Ah! I miei occhi! I miei occhi! Ah! Ah! Questo non me l'aspettavo! Eh? Tu? Ups! Era solo uno scherzo! Ah! Lupo cattivo! Molto cattivo! Ne riparliamo dopo! Ma adesso... Oh! Pensavo di averle perse! Eccoli qui! Il lupo deve averle nascoste qui! Ma ora sono mie! E mio fratello li adorerà! Ottimo! Un'altra cosa è fatta! Ho un po' di sete! È vuota! Ma certo! Posso usarla per creare qualcosa per la casa! Non ho bisogno della parte superiore! Solo il fondo! E là colorerò di nero! Ora le ali! Della mia creatura preferita, ovviamente! E luce fu! Una luce soffusa in questo caso! Guarda che stile è questa casa! È l'ultima! Che spettacolo! Eh? Sei qui? Ma che fai? Ti tolgo le luci! Ho fame! Hai qualcosa da mangiare? Fame? Ma certo! Aspetta un secondo! Preparerò una cena con i fiocchi! Sono per te! Dovrò improvvisare! Ma penso proprio che ti piacerà! I piatti vanno piatti! E aggiungerò anche un po' di atmosfera! Dico lo che fa bene alla digestione! È la mia parte preferita! Ma no! Non è sangue! È solo succo! I bulbi oculari! Li adoravo quando ero piccolo! E una mano di zombie! Deliziosa! Oh sì! Questo è il tuo posto! Morbido e comodo! Ma dove sei? Oh, eccoti qui! Prego! Goditi il tuo pasto! È inquietante! Oh wow! Delle patatine! Adoro le patatine! Quali patatine? Dove stai andando? Queste patatine! E sono davvero deliziose! Posso mangiarle per tutto il giorno! Ah! Come vuoi! Buon appetito! Ehi! Guarda! È il mio personaggio preferito! Wow! Ed ecco la mia ragazza preferita! Ma il suo volto è terrificante! Cosa? Ma sei bellissima! Ma guarda! Non vedi che è inquietante? Eh? Davvero? Beh! So cosa fare! Copriamole il viso! Hmm! Ora sembra strana! Ma comunque meglio! La prenderò qui in modo che tu possa vederlo ogni giorno! Babbino! Mi hai spaventato! È così noioso qui! Noioso? Hmm! Lasciami pensare! Ci sono! Questo ti rallegrerà! Hmm! Solo che... Hmm! Un attimo! Eh? Cosa? Oh io lo so! Serve un'antenna! Lassù! Certo! Come ho fatto a dimenticarmene? Non dovrebbe essere difficile! Devo solo arrivarci! Fin quassù! Ah! Oh oh! Ah! Non ce la farò mai! Uffa! Ora sono arrabbiato! Lo farò a modo mio! Uno! Due! Via! Ecco fatto! Ora posso finalmente metterla! Fatto! Ora possiamo goderci la tv! È tutto ok! Allora che ne dici? È un classico eh? Oh no! Non guardo quella roba! Io voglio giocare ai giochetti! Sì! Cosa! Quindi l'antenna nemmeno serviva? Ho così tanto sonno! Piccolino! Certo puoi dormire adesso! Devo ammettere che anch'io ho un po' di sonno! E anch'io mi riposerò un po'! Come me! No! Vatene! Questo letto è mio! Oh come vuoi! Prendilo pure! Sono così stanco che potrei dormire ovunque! Sogni d'oro! Oh! Gli cazzo! Buongiorno! Prank sui! Huh? Fermate! Oh! Oh! Huh? Ah! Oh no! Mi ha fatto lunga! Mi ha fatto un po' di calia! Huh? Shukriya! Koi zirut nai! Hey! Yeh meera boyfriend hai! Chalo babe! Matlabhi ladki! Mäi tumhii bataati ho! Oh! Mera matlab ladai! Oh! Mera handsome prince! Mera pyaar! Mäi jaldi tumhii ghar lye chalunghi! Hmm! Yaa shayad abhi! Märi jaan! Tum bas mera hi ho! Aar me tumhari! Hameisha! Oh! Mujhe se chpana hooga! Hmm! Mäi jasin kaahan ruk sakti ho? Hmm! Ahan! Vahan oopar sahi rahega! Oh! 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 Voh bhoat oopar hai! Bas thudha or! Hmm! Bura hua! Oh! Pard! Rukou! Mujhe vahhi chahiye! Hmm! 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 Sì, sì, grazie. come si è? Ah, che? Garlic? Ghanda è. Mi sento tu. Bye. Ah, cosa è? Questo è solo garlic. Due apples, per favore. E lo. Grazie. Mi ero, è un'acchia. Ok, fai un'acchia. Mi sono molto nervosso. Hi. 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 Eh, Bhagawan, questo è un vampirio. Sì, resta, tu mi spiegheria. È così sicuro? Maaf, non. Ma perché? Questo è molto sticchi. Questo è solo il tomato juice. Sì, questo è il tomato juice. Cookies? Sì, hai? Tu m'è l'acquietta? Sì, è molto bello. Paglia Che? Chi è? Mi fokas farò vedere. Non c'è nessuno. Tutto tutto è ok. Guardate, mi ha detto che ti piace. Mi ha detto che ti piace. L'essere. Oh, grazie. È un giusto. Rugga, ragazzi. Che dove è? Sorry, lo change. mi piacciono bene mi piacciono mi piacciono non mi piacciono non mi piacciono mi piacciono non mi piacciono cosa può fare? andiamo andiamo a vedere fast or strong red drink thandè hatt batman transform ho na vampire hey bhagwan wuh vampire hai 1 minit rukou wuh behoat cool hai wuh yehin kehee ho na cahayye wuh raha mujhe yehihi book chahayye thi vampire makeover chalou dekhye ismeng kya likha hai red eyes skin pants or red cape i freddo chalica ha per questa non ho per sei sa fu cera il ho io come a che ha pale skin ho ne va mondo ha ach 부 chando pale pal e pale skin check ab red eyes 20 a ok Oh, mi spazia, mi ha fatto un grande collection. Quale è il quale? Voi è in cui ci chiede? Questo è il quale. Mi 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 mi. Il tic-toc è il momento. Chalo, fare. Shazam, cherry kula eyes, che si è piaccato. Voilà. Pearly twilight pants. Zip zop zop di wop. Si è piaccato, piaccato. Poste Poste Qu'è? Oh, non C'è abbia blonde Mi ha idea È Ha hair spray Babbia è Hierà Vahà Thuva spray Tu mi re Hero Qu'è? Qu'è? C'è? 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 Ops C'è? 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 Oh, Grandpa! Snack time! Yummy, yummy! Mera sandwich? Shukriya, Grandpa! Svadisht bonus! Plat flannel se badella dress bane ghi! Ecc naya edgy vampire style! Ape same hai vahan jane ka! Hey, kaisa chal raha hai? Yeh, mei houn, bilkul nai! Yeh kya? Wow, kittin hot lady hai! Tum ne kya kaha? Kuch nahi! Wow! Ouch! Abhi kya hua? Mera make-up? Tum eck loser ho! Hey! Oh! Ruko, please! Tum, bevokuf, jau yaha se! Wow! Aau! Oh! Par, par! Oh! Uusse lag gai! Nahin! Himbat dhimat karno! Haatou! Haa! Aau! 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 Tumye bhaktan karni na hooga! Vampires rehm nahin khaate! Kya? Nahin nahin nahin! Ruko! Aaaa! Oh! Haa! 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 Hashtah tum miras saamne yao! Majha jaanadoo! Itdha rao! Chaloo! Huuu! Haaa! Vaakhar liya! Haa! Abya kisiko prishan nahin karaygi! Shukriyou, tumne mejo bata liya! Majbaje baike karo! Hey! Skool me kesink nahi! Vaago yaansae! Thikha hai sr! Thikha hai sr! Bacchè bhi na, bal bal bacchè Agla kia? Mujè pata hai, party Toh wò kone honne wala hai? Mere, badia Ha ha, bura nai, mai a raha ho bè, miro in tazaar kero Muah muah Toh yeh mahi a gaya Oh dear Kismat wala hai, tum sure ho Hey bhaagawan, kis karne se pregnant ho jate hai Oh dear Shandar Tum kietni sweet ho Paar, ruko, yehaan pard kuch grove ker raha hai Mä pregnant ho Aaaa Yeh ho raha hai, yeh ho raha hai Mä nahi dhek shakta, bhaag wo Ups, iske to uamid nahi thi Laga ta hai mujhe bhi bhaag na chahi Toh yeh raha hai humare snacks Haato Oh, oh, tum pregnant ho Nahi, please, meeri mom ko mad bata na Yeh pregnant hai Chup raha ho Bas apna moob bant rakhna Honey, mein ghar a day Oh nahi, voh a gai Please, kuch karo, kuch bheer Peeper chahiyeh, hishwaas nahi hota Haan, oh nahi, please, phirse nahi Đsa kiasse ho sakta hai Phirse Bas, ruko, ruko jau, please Hey, kya ho raha hai And phirse, phirse, phirse Nahi, 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 nahi Tum mire saat kya kar rahi ho Knock, knock Kya? Mujhe satch me bata room use karna hai Nahi toh ma kuch Upsi, nahi toh ma kuch gira dunga Thik hai, thik hai, ab tum jaa saktet ho Hmm, ek or juicy hot dog Par, mene kitna weight bada liya hai Chalou, dhekhen Par, sirf Ab, mene kuch dhek nahi paa rahi Bilkul, acha nahi hai Par, mene paas idea hai Kya na, mene doussere dhari kisa karu Chalou, ab dhekhen Kya? Bilkul nahi Itna zahada Oh nahi, mene moati ho gai Haa, kya na, mene Doussara طریقah dhekhu Bat Chalou, ab bat bant kar weight dhekhti hai Ab maja aachha lag raha hai Yeh shanadar hai Or meek or hot dog khatma kar sakti ho Hmm, swadish hai Ab soonay ka same hai Haa, ye kya hai Baby Oh nahi, aram karo, please Oh, chalou bhi Jahaan tumhye aachhi nid hai Voh jaga đun tete hai Mujo bhoat gusah raha hai Yeh bachchi kya chahati hai Oh, maja pata hai Isse aram daik kaisa bhanana hai Haa, bilkul Chalou, dhekhen Sabse pahle safety Phir glasses pahantate hai Or mujhe eek tube bhi chahiye Haa, maja yahhi chahiye Tiyar, chalou Haa, kya, kaha gai Mujhe iski zahada zaharurit hai Misks mat karna, bye Oh, ab yeh bhoat aram daik hai Meree aur baby ke liye Hey honey Hey bhagwan Mena toh bas yaha hai Mami, nahi Jis aapne soucha viesa nahi hai Honey, please yeh mat bhuul jana Yeh ba, bas do Jai yaan se Oh, hi mom Haan Oh, jo bhi ho, mazay karo Bye mom Mujhe aapne pere shape karne hai Oh, phirsa nahi Pard nai beauty ke sath Mujhe lagta hai Menei yaasani se kar lunggi Chalou, sharuo karay Oh, chalou bhi Oh, nahi Menei pahunsh nahi paa rahi Mujhe lagta hai Mujhe kisiki madd leheni hooggi Mujhe use karay Chipka ke se nikal dite hai Kya? Upsi, pard yeh kama kar gya Ek dm saaf ho gaya Ek bhi bal nahi bacha Haan, abh bada hai Par abhi eek or bacha hai Dekho Toh jau Aar dousra bhi karo Ah Akhirkar Ami akilisamayi vitaa sakti houn Haan, ab kya Hey mommy, mujhe kuch khana hai Oh, thik hai Mere jan Hey butler Mujhe kuch khana nikle chahiye Haan, my lady Yeh lijijay Badiya Ao, woi yeh khana wali hai Nai 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 Yeh bhe huda hai maam Eww, ee nai dhek sakti Eww Yuck Hmm, yummy Haan, kya? Ouch Yeah Wow, kitna sara khana hai Chalo, pher sab khate hai Yeh wala, yeh wala Aur yeh wala bhi Ao, ao, ao Itna jaldi nahi Thoada aram se karo Ketchup, orange, pickles Aur bahaat sari sweets Hmm, swadish lag raha hai Yeh, satch me Yeh, satch me Yeh, satch me Khaanay wali hai Oh, yaar Oh, nahi Woh, uske bina Bilkul Akheelie hai Usne Usbujari Ka dill Tho'd diya Kitti Ke sath Bohat Bura Hua Mujhe Yeh, yeh, Lene dhu Tears Martini Dry To yeh Namkheen Or Tasty Hooggi Hmm Mujhe Tho'da Or Chahiye Tum Bahaat Kharab Ho Mijn Ja Ruhi Ho Oh, nahi Yeh fit Nahi Ho Raha Mijn Bohat Moti Ho Goyi Butler Haan Oh, bas Eek Minit Me Aya Yeh Loh Tumhaharie Sare Kupdae Akhir Khar Chaloo Dekhye Kya Yaha Mere Lle Kuch Hair Kiyo Nahi Aram Se Karo Yeh Vala Nahi Vekar Ha Ao Sach Mee Black Ah Nahi Yeh Nahi 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 Yeh Acha Nahi Nahi Aab Isse Pahen Ke Dekho Kya Hmm Wow Shandar Bohat Sundar Aar Cosy Aar Bilkul Badiyah Size Idhara Aab 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 Aak Saat Shopping Par Ja Saak Aar Badiyah Pitchers Bih Lengge Tujuylo Dekhate Aaj Maara Bibi Kaisa Hai Aaha Woh Chhoti Piyarie Devil Lag Rhe Rhe Hei Bhagwan Hei Sweet Pai Aachse Se Berita Karo Mujjah Tum Se Nafred Hai Nahi 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 Ab Tum Buhar Aane Wali Mujjah Bosh Bosh Karna Hai Zor Lagau Dear Zor Se Mujjah Dekhme Do Sab Kaisa Hai Mujjah Lagtas Hai You Nahi Dekhna Chaah Buk Kwaas Chalo Bhi Dhyan Mat Duh Posh Oh Hi Darling Mujjah Maaf Kare Duh Mujjah Maaf Kare Nahi Mujjah Bheeg Maang Fire Oh Sweetheart Oh Mera Nannasa Pretty Cutie Oh Mera Hat Hey Bhagwan Ye Raha Lagtas Sab Thik Ho Shukriya Darling Klara Monstru Karn Chalo Karn Haan Phirsa Chuk Gya Eew Oh 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 Chalo Kuch Hard Try Kare Oh Bucs Kau Bada Karno Buhat Mushkil Hai Phirma Janty Ho Kis Asan Kaisi Buna Ya Jai Oh Lagtas H Us Kaler Pusund Ae Gah Tric Kam Kerti Hai Yor Nahi Ab Kaisa Rahe Gah Oh Haan Mujjhe Duh A B Minus Strawberries Mujjhe Pusund Hai Good Go Chalo So Jate Sweet Dreams God Princess Haa Woh Angel Ki Tara Souti Hai Is Ke Fangs Hai Mujjhe no, non mi sto facendo mi ha detto cosa è qui? Ciao Ploy Oh 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 Yeah Tu mi fai sondato? Yey Ma tu'ma la quondi Gianggi Hai sweetie Tabbara Oh sweetie Mi ha qualcosa c'è vediamo non c'è grazie mamma mi sembra mi sembra grazie oh mi piace mamma bella bella grazie bella bella cring ah 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 Ah, sono iniziato. Questo è molto bello. Questo è quello che è? Mi sembra che il buo giocatore non è in realtà. Cosa? 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 chi è? Ciao mamma tutti i bambini ok tutto ok 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 vai 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 ora è la prima ok vai non 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 mi mi ok tu faccio solo solo 5 minuti or please ok 5 minuti e... 5 minuti e... Ehm... Cheeca! Non mi piace di tutto questo. È ora che è l'escritto, baby. Cheeca! Quando ci sono i raggiamenti, mi non vengono a casa. Ehm... 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 Oopsi! Ah... 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 Come, c'è la tua parte bag cosi? Halpsticko nè non so! Ehm... Come, come to a mommy con le prank. Ehm... Ehm... Chco! Those are very strong women. Don't get me... She's so gross! Oh... I'm ready! Ah... Oh... I'm puisqu... I'm getting into the room! Ha, 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 ha... Oh... Cosa? Oh… Hey, Mom! Cosa? Oh… Ok, io sonico. Merci. Ma guarda, io sono molto bravo mamma e mi piacerebbe piacere di piacere. Chloe! Voi, hai vissi? Oh, grazie. È un piacere. Non è successo. È un piacere. È un piacere. Cosa? È un piacere. È un piacere. È un piacere. È un piacere. Adostate! È un piacere. 對. È un piacere. konuşa. Quando ti auspita. Mi piacere. È un piacere. ma lo l'ecchia tracoola tracoola quà no mam You're welcome No I'm going No Butchie No This is something My crafting recipes I'm ready Oh Who's ready sa two Mommy Will I go I didn't No 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 c'è piano Micà o sinic план è che l'imposa ma a te amare so STE lo so pur kanske non это look ora 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 guardate ora 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 guardate bambira ora 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 Oh, ora cosa è successo? Poi mettere la mia mia heart, ragazza, ragazza. Ok, mamma. Prendi. Bye. Hey, ma bello. I'm ready. Let's go. Wow! Hattop! ma già se è lì io ho hai ah hello ti è un po' questo mi piace molto come la mia madre ma è molto semplice ah a norms cosa è molto male ah 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 mi sei ah ah ma mi piace mi piacere molto mi piacerebbe mi piacerebbe con voi si 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 Oh, vampires Wow, questo è bello, ragazzi Oh, ragazzi Oh, ciao Let's go and get some photos of wedding Oh, chees Yeah, voglio vedere un altro animal Yeah, yeah, un po' di più Biggera, ora let's go and see Oh, let's go and see Oh, what? Oh, what? Oh, don't be calm Don't do that, I have an idea And now Oh, no Why? Now this is big Buffy Yeah, I have a passion Yeah Yeah, big Look Wow Yeah And now Book who is looking at? Oh, you didn't forget How can I say? Happy birthday, darling Ah, yeah Swaddisht Ah, yeah What? It was a prank You, big man Ami, io ti ho provo un prank. Non ciò che vuole. Mi vuole un bambino. Mi sembra così, è un bambino. Mi sento. Tu sei molto forte, honey. Mi mi perdono, honey. Tu mi dice un fatto, dice questo. E' un certo. I love you, honey. Ah! 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 Non conoscito! Ah! 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 Sì, 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 sì. Bal bal bacchi Rupo, ma c'è pita Ma c'è pita Bussi non c'è Relief Mulla Ma c'è sapo Ma c'è già Ma c'è oggi Extra toilet paper C'è Haan, it's not Bussi è Haan, bussi Ho gaya Saffa Non c'è Haan, dho Rai ho Mujer Ase non c'è C'è? Ma c'è P'è 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 Ma c'è Ma c'è Ma c'è Ma c'è Ma c'è Ma c'è Mere Pregnancy Adjeeil Gab Beth Da breez Q'è E Tu Ma c'è Ma c'è Mal E Me Ma, I D'e I Ma c'è Agent Mere Ma c'è Ma c'è A Aakhir, la mia blader è stata Kali, abbiamo un esempio, io mi chavo Voi, qui è un giro, ma è un giro, ma è un giro che ho Cia cosa è rata? Oh, non, mi ho mai molto aspettato, ora non è un giro E' un giro molto bevegato, l'adice E' un giro molto, questo è un giro, ma è un crieve Chiaro, io ho così quanto, A presto 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 Ora cosa? Io ho chiamato qui. Ciao! Ok, questo è un'acchia farewell. Mi chiamato un sovieniere. Oh! Bill! Questo è tutto. Il tempo è di Climax. Questo è il tuo billo. Bill è arrivato? 150,000 dollari? C'è una cosa? Non c'è tanto. C'è un pozzo. Non c'è un pozzo. Non c'è un pozzo. Un pozzo. Un pozzo. Un pozzo. Un pozzo. Mi ha capito. Ducati. Mi gustavo, tu mi piace. Mamet Blood Tube La Hayonde ha più alta, il viene di okay English. Era in questo il l'acchia. La ocean creature. Il mio cielo di buono. Il è abbia più alta. Non c'è una condizione. E il mio ricordo. Oh no, la. È una scria. Non è possibile. Si. Mi pace è successivo, il nostro ciocchio non è possibile. Tu non cambiare i più. Mi senti in questo caso. Questa è successivo? Il nostro corpo è morto. Oh, questo non è vero. Mi dovete fare bene. Non so, non so. Ti senti ancora. Ah, cosa significa? Right, left, right, left. Molto bene, buddy. Ah, ora la mano con la mano. Oh, no, la line è flat. Mi dovete fare bene. Allora. Questa è una cosa stessa. Pekas, le pezzi. Non so, non so. La mia parte a coltata è di brown, non può essere bene. Di nuovo, williamo fare una nua prima出去 di nuovo. Sono snowi e mettendo dei pinki. Siamo l'appartico ancora prima. Io ci sono un'acquizzazione. Lai più rispettati! Buono! Ho! Spettiamo! Mi sono saluto. Tu hai fatto una cosa? No cosa ne passa. Mi è un hero! No, non ho messo con il vampire sopa. Bye bye! Questo è un'aziebata. Il tempo è per la cuore di cuore. Ah, un uomo! Hey, vai! Mi sono un uomo! Mi sono un uomo! No! Questo è il mio paciente. Il uomo è stato fatto! Il uomo è venuto a casa. Il uomo è venuto a casa in casa. Ora è andata. Alla ora è riferimento. Ruko, cosa? Holy Skeletron! I was just enjoying it! Bye! Leave me alone! Leave me alone! Where are they? I'm not getting to see! This is a good idea! Enjoy! Thank God! Ruko! What happened to my blood juice? My precious blood juice is gone! Oh, no! It's a good idea! It's a good idea! It's a good idea of life and not dying! Blood should not be wasted! I don't have enough money! Hi, Doctor! I don't want it! Blood! I need blood! Oh, God! He's dying! Doctor, come up! Take my blood! Take my blood! That's a good idea! I feel the power! Wow! I love my new love! That's a dark ocean vampire angel! Love me, angel! I love you too! Will you become my girl? Absolutely! How fresh and cold water is! Great! Let's go! I'm playing with you! What? What are you doing? Hello! Hi! It's a good idea! Let's do it! Let's do it! It's a good idea! I know what it means! What is it? She's going to be pregnant! Oh no! Oh no! Oh no! This was a big idea! How did you feel like this? I feel weird! What? My belly? What? What is my belly? What is my mouth? Oh no! You're not going to be a source of love! I'm going to be a source of love! Just go away! Wait a minute! Wait a minute! What is this? What? I'm going to be a source of love! How? I'm going to clean up! I'm going to clean up! Gloves are ready! Let's go! First of all, let's start! First of all, you need to get safe. Let's go! Let's go get dark! Or a bottle of coffee! Or four? Okay! Now the things are right! Oh! It's fresh! My soft sweet tea, the sweet tea? I'm good! 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 Let's go! Tupplile per il pò che hai? Chea? Mi ri belly Butler Hai miss Mi cosa? Mujer maaf ker tu Mi non vedo L'è legge Molto mese aere Shukriya Mi già già chiede Molto si chiede Qu'è? E'a ghiatia è Di vedere Dichui tu È molto creamy È È tutto questo Mese a rara Sì Kassi Mi è qui Répaati Oh Voi adorare Hilla Rai hallo abbiamo bisogno di farlo ora butler io ho io sono qui la nostra mamma è la cosa no non 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 ok tu non non si tu cosa vuoi tu cosa vuoi tu cosa vuoi ci vuoi un sandwich e molto ci vuoi ci sono si un sandwich mi ci ci e ci è è quello ci ne si non 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 Siamo in un canadio. Siamo in un canadio. Wow! Il sanno detto che è detto. Il tempo è pronto, baby. Perfecto! Ho, raguano. Mi sono tornato a bimbar. Ora il tempo di sopare. Oh! Oh! Mamma! Mi sono qui. Sopare. Mi ha detto, baby. Mi ha detto. Ora come si fai. Mi molto molto. non 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 questo è il mio buongiorno ok adesso è la cosa è molto grande Wow, Shukriya. Come on, Belly. Oh, è stato un po' è molto grande. Oh, non. Io sono in un'alto. E sono i pens. Noi, non è proprio un po' di ralaccionato. Non è proprio un ralaccionato? Oh, do you cante? Sucre, che mi aiutano. Ok? Oh, buona, mi sembrava. Questo è arrivato. Questo è giusto. Ok? È già? grazie a tutti 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 grazie a tutti